Un parcheggio nell'area ticosa di Como, Confesercenti ribadisce il suo sì. La scelta dell'amministrazione di privilegiare la creazione di un grandissimo parcheggio a servizio della città ci trova d'accordo, afferma il presidente di Confesercenti Como, Claudio Casartelli. L'opera è assolutamente necessaria e funzionale alla realizzazione di un'area per la sosta nel medio e lungo periodo. Confesercenti torna anche sull'importanza di rivitalizzare la zona di via Milano Alta. Il progetto sulla ticosa ideata a suo tempo continua Casartelli aveva il vantaggio di essere pensato per fare da traino per la riqualificazione dell'area di via Milano Alta e delle vie attigue. Era appunto prioritario il suo congiungimento con quest'area tramite il parziale interramento di via Grandi. Gli insediamenti conseguenti dovevano avere la prerogativa di costituire una continuità edilizia e non creare una diversità di tipologia. Secondo Casartelli, l'ipotesi di edifici residenziali, differentemente da quella di edifici universitari e commerciali, trova conforto nel mercato immobiliare cittadino. Siamo totalmente contrari a nuovi insediamenti commerciali per i quali la zona offre molti spazi vuoti, conclude Casartelli. Occorrono politiche di indirizzo verso il loro recupero, con stimoli che portino alla loro riapertura. Sul progetto di officina Como sulla ticosa presentata in questi giorni al Comune è intervenuto il gruppo consigliare svolta civica per Como. L'amministrazione non ha voluto nemmeno approfondire seriamente la proposta. È l'ennesima occasione sprecata che condanna ancora una volta la città alla paralisi. Infine, sul futuro dell'area è intervenuto l'assessore all'ambiente di Palazzo Cernezzi, Marco Galli. Il Comune non abbandona l'idea di realizzare un parcheggio in ticosa, come da tempo i cittadini ci chiedono. Siamo in una fase di valutazione dei progetti e ad aprile convocheremo la conferenza dei servizi. Siamo in una fase di valutazione dei progetti e ad aprile convocheremo la conferenza dei servizi.